Si deve tenere una velocità che non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione si deve tenere una velocità che non costituisca pericolo per la sicurezza per la sicurezza della circolazione, come si deve tenere una velocità per la sicurezza della circolazione? I veicoli devono transitare nell'ordine A, F, L, H. Sottotitoli qui? Chi si deve tenere una sia? Falsone. Si viene tenere una velocità, in modo calda. ha 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 falso il signale era figurato che si è fondata con tutti i veicoli che si è fondata 2 avuto bene queste nuove le si io ho avuto ha dis comprare In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sempre marciare per file parallele. Il segnale raffigurato vieta la fermata ma consente la scuola. Il segnale raffigurato vieta 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 la scuola. con una raffigurato vieta la scuola. clawere in un attimo se lo vieta la scuola è diretta la scuola. Con una tripartere. Il segnale allesti in lago daí di qualsiasi车. ha letto per Gesetz sulste stand? Questi hanno indicato un co qualsiasi istituiti per convenientemente la spurt University. Vieta la scuola vendita la scuola diichtiacodo mettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia, a eccezione delle biciclette. La calotta del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale se presenta una rottura inferiore ai 3 centimetri. Nastro? Che zanen? Rozza, no? Nastro, nastro che zanen bollettino. Nastro, scosso. Nastro, scosso. La striscia bianca discontinua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna ha doppio senso. Suntro, scosso. Suntro, scosso. un attimo per favore ok 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 un attimo per favore una carajata non è due carajata in lecce che due carajata non è falso carajata non è senso unico doppio senso due carajata due carajata non ci sono falso la striscia bianca discontinua in figura divide la strada la strada che va a correre in due carajata due carajata che va a correre se la gente ha due carajata una e un'altra carajata due carajata che va a correre ognuno ha doppio senso due carajata, due carajata due carajata, due carajata falso in presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C deve svoltare a destra deve ed ed è qui se gli avviate se gli avviate se gli avviate si rilasciati a quale mi ha detto se gli avviate se gli avviate se gli avviate se gli avviate così la strada questo è falso Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata. È obbligatorio ridurre la velocità e l'occorrenza fermarsi in corrispondenza di qualunque segnale stradale. Soccorrere un ferito della strada può significare salvargli la vita. Il segnale raffigurato obbligato ad arrestarsi al barco d'occanale. Il segnale è un'applico che parlano con un parco d'occanale. Un'applicazione è un'applico di fondo. Si c'è un'applicazione di fondamentale, di fondamentale è un'applico di fondamentale. Algo d'occanale è un'applico di fondamentale. Nell'incrocio rappresentato in figura tutti i veicoli devono usare prudenza nell'attraversarlo. Nell'incrocio rappresentato in figura il suo rispettino. Il segnale raffigurato pronuncia una deviazione per lavori in corso. Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate. Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate. Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate. Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabaglianti. Il segnale raffigurato si trova su strade che in particolari condizioni sono innevate o ghiacciate. Il segnale raffigurato si trova. Il segnale raffigurato si trova. Il segnale raffigurato si trova. Do you like? Il segnale raffigurato si trova. L'inversione del senso di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci. L'inversione del senso di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci. L'inversione del senso di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci. L'inversione del senso di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci. Un incidente stradale è obbligatorio apporre segnale mobile di pericolo sull'unotto posteriore del veicolo prima di andare via. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di capannoni industriali nelle vicinanze. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di capannoni industriali nelle vicinanze. Forte vento laterale. Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna essere certi del perfetto stato di efficienza del mezzo. Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna essere certi. del perfetto stato di efficienza del mezzo. Vero. Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere è opportuno avvertire il conducente del potenziale pericolo. Vero. 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 Che è penalmente civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida. Penalmente civilmente responsabile di un sinistro, sinistro mani bumsat, sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida. Penalmente civilmente non è stato un accident, ma non è stato un accident. La sentenza di autorità può incorrere nella revisione della patente di guida. Vero. 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 Il segnale raffigurato consiglia agli autotraenni e agli autoarticolati la direzione per non attraversare il centro abitato. Vedete il segnale di? Consiglio di Vittorio. Vero. Vero, bravo. Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5. Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5. Il massimo rapporto di traino, ma ne amico, no? È che il rimorchio di traino è così, Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzeria. Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzeria. Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzeria. Mezzeria è che in linea 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 è che in l'uso di occhiali da vista o di lenti a contatto solo quando la miopia supera 6 diottrie. Il segnale luminoso in figura sono semafori per i veicoli su rotaie, tram, treni. Il pannello integrativo raffigurato posto sotto un segnale di indicazione serve a precisare la distanza che manca per raggiungere il punto indicato dal segnale. Il conducente che intende sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta. Il d'eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta. Il d'eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è luce gialla lampeggiante. Il d'eventuali veicoli e del segnale raffigurato e del segnale raffigurato e del segnale raffigurato e del segnale. Il d'eventuali veicoli. Non vediamo questo video. Non vediamo se non vediamo. Non vediamo. Non vediamo se vediamo se vediamo. Non vediamo se vediamo. Non vediamo. Non vediamo se vediamo. Se vediamo il numero che dice? Il numero di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio di Italia, i veicoli che si possono condurre con la patente A1. Non vediamo. La patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale, Italia, Italia, Europa, i veicoli che si possono condurre con la patente A1. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.